E' un professionista, è un architetto e ci parlerà sia del suo studio, quindi di BMC Architetti, ma non solo, loro sono anche affiliati Grimaldi del gruppo Tri, quindi hanno anche questa grandissima competenza nel campo immobiliare. Sto parlando di Mirko Cotroneo, benvenuti ai nostri microfoni. Grazie. Allora, prima di addentrarci in tutti quelli che sono i servizi che voi offrite, siamo molto curiosi di conoscere la sua storia. Quindi, architetto, come ha deciso di intraprendere questo tipo di percorso? Ma è un percorso che nasce un po' di famiglia, venendo da una famiglia di costruttori, ho fatto scuole tecniche, geometra e poi di conseguenza architettura. Bene, quindi non poteva che fare questo, della serie quando è scritto nel DNA un destino. Esatto. Quindi, BMC Architetti, invece, chi siete? Che tipo di servizi offrite? Siamo uno studio giovani composto da 3-4 figure. Ci siamo specializzati soprattutto nella ristrutturazione di interni, appartamenti di vario taglio e vario livello. Diamo un servizio di consulenza dalle prime ipotesi progettuali fino alla consulenza, alla scelta dei materiali, e a tutta la direzione dei lavori e tutta la parte urbanistica che serve per completare tutto l'iter. Assolutamente, perché molto spesso le persone si dimenticano proprio di questo aspetto, pensano di potersi affidare a quella che è la tecnica del fai da te, ma giustamente, come essendo dei professionisti, non soltanto magari non sanno come rendere più funzionali possibili gli spazi, e quindi anche di rendere più funzionali accoglienti una casa oppure un'attività commerciale, ma poi c'è tutto l'aspetto del normativo che giustamente non conoscono. Esatto, noi a parte cercare di ottimizzare tutti gli spazi e rendere quindi un progetto più utile possibile all'utilizzo, se ne deve fare la famiglia o chi ci deve vivere, seguiamo tutto l'iter burocratico dall'inizio alla fine per evitare poi di lasciare delle situazioni incomplete e negli anni significa poi avere un sacco di problemi e dei costi non indifferenti. Assolutamente, e poi c'è un altro aspetto molto importante, che comunque voi essendo dei professionisti, essendo delle persone competenti in materia, sapete scegliere anche quella che è la soluzione più consona rispetto comunque magari ad un determinato budget che si ha a disposizione. Certo, noi partiamo prevalentemente da quello al budget che ci mette a disposizione il cliente e sin da subito facciamo un preventivo molto dettagliato sulle varie lavorazioni, facciamo un preventivo dettagliato dei materiali che il cliente ha intenzione di mettere in casa, così ha un quadro generale completo della spesa a cui va incontro. Gli spediamo anche un preventivo dettagliato di tutti i costi, sia dal punto di vista delle nostre parcelle che delle varie cose da pagare che ci sono. Quindi la serie, da voi non si hanno sorprese? Assolutamente. Si è tutto l'elenco dettagliato ed è giusto che sia così. E poi il valore in più che avete è che siete appunto affiliati anche ai Grimaldi del gruppo 3. E quindi per chiudere il cerchio, visto che ci occupiamo prevalentemente di progettazione e ristrutturazione perché abbiamo un'impresa interna che si occupa anche dei lavori, quindi i preventivi che facciamo noi sono reali e realmente realizzabili, abbiamo deciso di aprire un'agenzia immobiliare per chiudere il cerchio, per riuscire a dare un servizio completo a 360 gradi a chi si affida a noi, trovandogli casa, progettandogli e ristrutturandogli. Perfetto, quindi io l'avevo detto che era un punto di riferimento molto importante all'interno del panorama immobiliare che si sa, comunque se non si sta attenti può creare qualche problema. Quindi io direi a questo punto di dare tutti quanti i suoi contatti. Ricordo che è qui con noi l'architetto Mirko Cotroneo che ci ha parlato di BMC Architetti e loro in più sono anche affiliati Grimaldi del gruppo 3. Quindi quest'ultimo connubio del campo immobiliare in cui voi sono anche esperti di progettazione di interni, di ristrutturazione, di consulenza, quindi vi seguono a 360 gradi e vi accompagnano dall'inizio alla fine. Li potete contattare al 347 5454 324 oppure allo 06 8982 5154. Si trovano in via Conca d'Oro 221 in zona Conca d'Oro e li potete scoprire anche tramite Facebook. Avete appunto Grimaldi Conca d'Oro ma non solo, avete anche il sito internet dello studio di architettura quindi www.bmcarchitetti.it e per qualsiasi tipo di informazione vi do anche l'indirizzo mail www.arc.cotroneo.gmail.com Quindi perché dovremmo venire proprio da voi però? Perché serviamo un servizio completo senza nessun rischio e senza nessuna brutta sorpresa. E soprattutto vi seguono veramente a 360 gradi, quindi per ogni tipo di progetto che avete nella mente loro ve lo realizzano perché hanno tantissima competenza, tantissima esperienza addirittura c'è Mirko che appunto ce l'ha nel DNA il fatto del fare l'architetto quindi chi meglio di lui può veramente realizzare quelli che sono i vostri sogni e quindi ve lo consiglio ancora Architetto Mirko Cotroneo BMC Architetti Affiliati Grimaldi del Gruppo 3 Grazie ancora per essere stato qui con noi Grazie a voi E questa è Bonite Roma, sole ed esclusivamente il top della Capitale Radio 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 Radio